Gli accordi maggiori sono forse di una nota fondamentale, per questo gli accordi maggiori si suonano molto spesso con alcune note raddoppiate usando 5 o 6 corde. Nell'accordo maggiori si usa la nota fondamentale, la terza maggiore e la quinta giusta. Nel caso di Do maggiore abbiamo Do Mi Sol, Do Re Mi, Mi terza maggiore, Fa Sol, Sol, Quinta giusta. Nell'accordo di Do partiamo dal Do. Nell'accordo di Re partiamo dal Re a vuoto. Nell'accordo di Mi lo suoniamo tutte le corde. Nell'accordo di Fa maggiore partiamo dalla nota Fa. Nell'accordo di Sol lo suoniamo tutto. Nell'accordo di La partiamo dalla nota La. Nell'accordo di Si maggiore partiamo dal Si.